quest'anno abbiamo deciso di farvi così gli auguri al nostro affezionatissimo pubblico direttamente dal covo dell'ingegnere Flavio Russo, Flavio Russo, Ciro Gaglione, Salvatore Perillo, buon Natale a tutti quanti voi e uno strepitoso 2024 all'insegna di tante avvincenti puntate, tanti avvincenti argomenti, tanti avvincenti serati ancora da trascorrere insieme e nostra compagnia, augurissimi a tutti, buon Natale, buon Natale, buon Natale quest'anno abbiamo deciso di farlo così gli auguri direttamente dal covo Grazie a tutti!